In questo sabato pomeriggio ritorna il nostro appuntamento, prima puntata del sabato del convento. Allora, Don Davide, stavamo appunto parlando di formazione e di incontri, di aggiornamenti, quindi quanto è importante questo per i preti, per i sacerdoti, abbiamo visto anche il servizio riferito ai frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo, una formazione che è importante anche in parrocchia. Lei è parroco della trasfigurazione a San Giovanni Rotondo, quindi... Pochi giorni, sì, dall'11 settembre per l'esattezza. E certo, in parrocchia si vive con il popolo, si accoglie il dono dello spirito che viene dal vissuto concreto, dalla relazione, credo che per la formazione sia molto importante questo termine, la relazione, perché ci fa scoprire chi siamo. Nel libro della Genesi non si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, quindi l'uomo scopre se stesso nella relazione, nell'andare verso Dio, a differenza di tutta la creazione, di secondo la propria specie, ma l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi nella relazione c'è una verità che è vitale e che diventa esperienza concreta. Ed è importante questo, scoprire il tutto come un dono di vita nella relazione. Questo con il popolo è molto vero, è molto importante, ed è importante che un sacerdote viva con il popolo e rafforzi i legami di comunione con il popolo. Certo, allora buon cammino con la nuova parrocchia, speriamo di averla presto con noi, sempre nei nostri studi, rimanga con noi oggi. Sì, vogliamo anche fargli gli auguri per questo incarico che ha avuto dall'arcivesco come vicario episcopale per il clero, quindi era una persona autorevole oggi a parlarci di formazione, grazie. Grazie per gli stati di vita. Noi abbiamo una foto da farti vedere, caro Frafrancesco, una foto che ti ritrae in compagnia di un'amica, di una tua amica, un'amica dei frati di San Giovanni Rotondo, un'amica di Padre Pio e un'amica di Padre Pio TV. Vediamo se riusciamo a farti questa sorpresa, a vedere questa foto, questa immagine, che appunto ti ritrae con, vabbè, ormai lo dico, con Safiria Leccese. Sì, come no, come no. Allora, partiamo da questa foto, vediamo che la regia ci inquadra, ecco. E adesso ci facciamo raccontare da lei e anche da te in che occasione c'è stato, sei tu che premi lei o lei che premi a te? Ma il premio è per Safiria, è il premio Padre Pio a Pietrelcina, se non sbaglio, due anni fa. Pre-Covid, era il 2019, sì, sì, sì. E allora, abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype con noi questo pomeriggio una carissima amica nostra, di San Giovanni Rotondo, dei frati di Padre Pio TV, Safiria Leccese. Buon pomeriggio, benvenuta al sabato del convento. Ciao Safiria. Ben trovati a voi, che bello vedervi. Peccato non essere insieme, però la prossima volta verrò in studio. Questa è una promessa reciproca. Grazie per questo invito e per questo nuovo modo che avete trovato di far conoscere l'eredità, mi piace dire, spirituale di Padre Pio, perché uno pensa sempre alle cose che sono state. Queste sono cose invece di adesso, abbiamo sentito Don Davide e gli altri vostri ospiti e quindi anche questo vostro invito per me è un modo per così ricordarci e anche condividere con gli altri questa eredità spirituale. Sì, Safiria, è davvero bello anche per noi rivederti, anche se attraverso il video. Ecco, molti conoscono la nostra storia, la nostra amicizia. Ecco, se ti andrebbe di raccontare un po' quegli appuntamenti così che sono sembrati casuali nella nostra vita, no? Ci conosciamo ormai da una decina, una decina d'anni, forse di più, da quindicina d'anni. Diciamo che ci sono stati degli incontri che in qualche modo hanno segnato il nostro cammino e ci hanno fatto crescere proprio in una bella amicizia. Ti va di raccontare qualche... Sono stati tanti e il vostro invito, l'invito tuo e Di Paola, mi ha dato l'occasione per ripercorrere un po', no? Quanto l'incontro con Padre Pio prima in una maniera singolare, dicendo che è astratta attraverso il lavoro da quel lontano 99, e quanto poi invece in questi anni più vicini a noi, questi ultimi anni, attraverso appunto le relazioni, si parlava di relazioni, di amicizie profonde, tutta questa storia è andata avanti. Buttiamo lì qualche appuntamento. Cominciamo con, per esempio, quello che è sembrato l'invito più matto che ho ricevuto dai frati di San Giovanni Rotondo a San Giovanni Rotondo, a condurre con i ragazzi, te lo ricordi Francesco, te lo ricordi Paola, quando mi avete invitato in piazza con un freddo becco, penso che facessero meno 15 gradi, nella piazza di San Giovanni Rotondo con i ragazzi, un'esperienza meravigliosa, perché hanno potuto raccontare il loro cammino, c'erano diversi frati, fra Francesco ti ricordi, e diversi anche suore francescane che hanno partecipato, e quello è stato uno degli appuntamenti. Poi ci sono stati quelli mediaticamente più importanti, come per esempio la traslazione, perché quando c'è stata la traslazione di Padre Pio, noi con la strada dei miracoli, all'epoca su Rete 4, abbiamo fatto un'ora e mezza di diretta, voi siete venuti in studio, sei venuto in studio tu fra Francesco Conna, Padre Marciano, c'era Padre Marciano, Padre Luciano, e siete venuti a parlarci di queste tappe, di come l'Italia ha accolto Padre Pio, che l'ha attraversata in questo lungo viaggio, e poi in occasione di quella traslazione si sono incrociati anche appuntamenti meno pubblici, perché insomma io ho avuto il piacere di venire a trovarvi a San Lorenzo fuori le mura, nella Basilica di San Pietro, quindi nel cuore del Vaticano, c'era appunto il corpo di Padre Pio con San Leopardo Mandic, e quindi sono stati tanti questi appuntamenti, per non dire poi della veglia, della veglia per l'attesa di Papa Francesco con i giovani che ho condotto lì da voi, nella chiesa dove ho rivisto Paola pochi giorni fa, invece proprio nella festa di San Pio con la veglia che avete fatto, stupenda, che tutto il mondo abbiamo potuto seguire attraverso la vostra televisione. Veramente sono stati tanti in questi anni gli appuntamenti, poi con Paola sono stata nella vostra televisione, sia per il primo libro con Paola, poi con Stefano Campanella per questo secondo libro, Ora, non vorrei, come dire, ho paura che nel freddo del collegamento via video possa sembrare tutta una cosa che è una personalizzazione, io vorrei stare qui a testimoniare invece come Padre Pio, la sua persona, il suo carisma, ma poi attraverso i frati, attraverso di voi, attraverso la televisione, attraverso Paola, Stefano e tutti i colleghi che mettono in piedi questa televisione che appunto va in tutto il mondo, come ci tenga uniti, cioè come ci sia un legame dove è possibile parlare di cose edificanti, di miracoli sì, ma anche di amicizie e di storie personali. ecco, io vorrei testimoniarvi questo, perché altrimenti, ripeto, rischia nel freddo del collegamento di sembrare una personalizzazione che io invece non desidero. La foto che ci ha fatto questa sorpresa, Paola, con questa foto, dove io penso, fra Francesco, che Paola abbia scelto una foto proprio bella, perché traspare anche proprio, diciamo, ecco, veramente un'amicizia, che penso sia un sentimento tra i più belli che ci sono. Quando tu mi hai dato questo premio, loro hanno scelto te per farmi dare questo premio, perché evidentemente appunto sapevano di questo legame e devo dire che uno tra i premi più, cioè che mi sta, forse quello che mi sta più a cuore, anche perché ritrae questo busto, che forse se lo possiamo vedere ancora, se non chiediamo troppo alla regia nella prima puntata, in genere non si chiede mai troppo, perché le prime puntate sono, ecco, bravissimi, grazie. C'è questo busto di Padre Pio e quindi è bello perché mi sembra anche, come posso dire, qualcosa che tiene insieme. Ecco, Padre Pio è qualcosa che tiene insieme, come poi tutte le cose che arrivano, diciamo, da cose più grandi di noi e da legami che ci sovrastano anche nella nostra umanità. Poi non posso non ricordare, Paola se lo ricorda bene, perché quando vieni la prima volta a Padre Pio TV e tu fra Francesco eri nascosto all'epoca, invece adesso addirittura stai co-conducendo questa puntata. Vi ricorderete che c'era Maria Lucia, la mamma di Matteo Colella, che io ho ospitato prima in trasmissione e poi ho voluto mettere nel libro la storia che appunto ha reso santo Padre Pio. Quindi io, come vi posso dire, ognuno di questi appuntamenti penso meriterebbe qualcosa, ma non visto in maniera personale, ma visto invece per quello che ha potuto trasmettere, perché ognuno di questi appuntamenti ci ha lasciato qualcosa. Certamente che Paola lo sa perché solo a lei, l'ho raccontato pubblicamente proprio a Padre Pio TV, che la mia storia con Padre Pio diciamo comincia in una maniera rocambolesca e quindi trovarmi oggi con voi mi fa, come dire, mi scalda il cuore, anche mi commuove perché io a questa beatificazione non ci volevo andare, ho rischiato di farmi licenziare perché non volevo andare a raccontarla e se oggi sono qui con voi forse la testimonianza più bella è anche la più vera di come le storie poi evolvono, dal 99 ad oggi quante cose che sono cambiate. L'ultima volta sono venuta da voi proprio in occasione della festa lo scorso anno, poi le nostre vite sono state terremotate, il mondo è stato terremotato e anche le nostre vite personali per tanti motivi e ciascuno in modo diverso però siamo qua e quindi questo per me è un motivo di grande gratitudine. Ora se volete farmi qualche domanda perché se no vado a ruota. Allora, questa diciamo che è un'anteprima, tu i tempi televisivi li conosci meglio di noi e quindi diciamo che questo è solo un'anteprima perché poi le altre cose belle ce le racconteremo qua in studio. Non vogliamo rubarti altro tempo, sappiamo che sei anche impegnata con la conduzione del Tg e quindi poi tornerai. Questa è la prima puntata, magari verrai a farne una centrale e poi concluderemo insieme a questo capitolo del sabato del convento con te in studio, è una promessa. Magari, magari. Grazie, grazie di cuore. Grazie, Safiria, davvero grazie di cuore. Grazie, grazie a voi. Grazie anche per questo sorriso che sicuramente rallegra il cuore di quanti ci stanno seguendo in questo momento. Grazie. Grazie a voi, a presto, a presto. Una cara amica di Padre Pio TV, Safiria Leccese, e allora noi ci fermiamo ancora qualche istante, linea alla regia e poi ancora insieme parleremo di pellegrini e pellegrinaggi. State con noi.